Ciao, bentornati sul mio canale, oggi vi porto a scoprire questa bellissima abitazione che si trova a Lamporo, che è un paese in provincia di Vercelli, nelle vicinanze di Crescentino, che è il centro urbano più vicino, comodo a tutti i servizi. Diciamo che a 5 minuti d'auto si trova il Conad, si trova il Mercato, si trovano tutti quanti le comodità, siamo proprio vicino al centro, di là si trova quello che è il comune, poi c'è il parrucchiere, c'è il tabacchino e c'è un bel bar-ristorante. Detto questo, entriamo e troviamo una bellissima porta nuova, è stata sostituita da poco, con i vetri anti-effrazione, quindi è una porta di sicurezza e soprattutto è una bella porta. Tutti gli infissi che danno sull'autostrada sono stati sostituiti nuovi e sono tutti quanti doppi vetri e hanno sostituito anche quelle che sono le gelosie. Sul lato interno troviamo comunque degli infissi doppi vetri, un po' più datati, però perfettamente funzionanti, doppi vetri in alluminio. Abbiamo tre sistemi di riscaldamento in questa casa, caminetto a legna, caldaia pellet e caldaia metano. Questo permette di poter riscaldare la casa anche in maniera molto economica, è una casa con pareti da 60, quindi si scalda e il caldo resta e durante il periodo estivo non si necessita di climatizzatore. Vi ricordo che noi servizi Giorus siamo caffè immobiliare e andiamo a prestare anche l'assistenza su alcune pratiche IMSS. Quindi detto questo, se vi trovate in Piemonte e avete piacere di far presentare l'immobile come stiamo facendo noi, scrivetemi poi nei commenti, adesso vi facciamo vedere il resto della casa. Questo è bel soggiorno e di qua troviamo la cucina abitabile. La cucina abitabile ha la particolarità di avere anche una piccola isola che è molto comoda e funzionale per preparare quelle che sono le vivande e subito alle spalle di questa cucina e di questo isolotto troviamo quella che è la mensa, la piccola dispensa. Qua abbiamo gli infissi doppi vetri, la parte esterna ve la facciamo vedere tra poco. Da questa parte come vedete abbiamo comunque infissi doppi vetri abbastanza recenti, non sono nuovi come gli altri ma sono funzionanti e molto recenti. Poi qua sotto abbiamo uno spazio che nelle case nuove difficilmente si trova ma è molto utile, che è il ripostiglio, come vedete è stato anche ben organizzato con dei bei ripiani e di qua c'è un secondo ripostiglio, secondo vano dove è stato recuperato un bagnetto di fortuna che vi permette appunto eventualmente un domani in dove andare fino sopra e sul fondo c'è addirittura una doccia così quando se volete andare a fare dei lavori come posso dire nel giardino, nell'orto avete la possibilità entrando di andare subito in bagno a farvi la doccia. Salendo sopra abbiamo questa bellissima scala in marmo, come vedete non è stato dato il bianco da diciamo una decina, una quindicina d'anni e questi sono tutti quanti piccoli lavorettini che vanno fatti ma la casa è assolutamente sana ed è molto carina. Abbiamo un secondo bagno che è qua, che è una vera e propria camera da bagno, come vedete è bella spaziosa, c'è lo spazio addirittura sul fondo per una maschera da bagno, per una jacuzzi, per un idromassaggio, e in più c'è lo spazio per sia la lavatrice che l'asciugatrice. La seconda camera da letto, che è la camera da letto più grande, è molto spaziosa e Marco vi farà vedere anche il dettaglio dell'infisso. Oltre all'infisso c'è la gelosia nuova, che è una gelosia che si può aprire in maniera tradizionale ma che è anche la ribalta proprio delle singole gelosie e che permette appunto di poterla sfruttare a pieno. Invece sull'altro lato troviamo la seconda camera da letto, un piccolo locale caldaia che volendo si possano andare a dividere anche diversamente per poter sfruttare la camera come stanza più grande a tutti gli effetti. Chiudo io? Chiudi tu? Perfetto. Allora, e di qua abbiamo appunto questa bella camera da letto e di lì si trova la caldaia. Che cosa farei io personalmente se fosse casa mia? Io questa porta la lascerei, qua tirerei un piccolo cartongesso e abbatterei questa parete, perché così troverei una bella stanza grossa e questa diventerebbe solo un piccolo locale caldaia e andrei a sfruttare questa camera come camera da letto grande. Però questo è il mio modo di vedere questa soluzione, poi voi dovrete venirlo a vedere e scegliere il vostro modo di sfruttare questi spazi che sono belli. Qua abbiamo la terrazza, come vedete è un terrazzo di dimensioni generose, la caldaia, come vedete la caldaia è nuova e tutto quanto documentato anche dal punto di vista della caldaia e di qua abbiamo il cortile con la piccola tettoia che adesso vi faremo vedere e poi dietro c'è tutto il giardino indipendente, quindi guardate il video fino alla fine così avrete la possibilità di vedere anche la parte esterna e la parte del bagno e dell'orto. Adesso con Marco scenderemo sotto e andremo a vedere tutti gli altri dettagli di questa soluzione che è una soluzione a complemento perché dietro dove c'è il giardino si può richiedere anche di aprire eventualmente un piccolo carraio che vi può permettere nel caso in cui avete un camper, o avete idea, di poter utilizzare lo spazio dietro anche in modo diverso di poter avere un accesso diretto perché c'è anche una piccola stradina. Qua come usciamo fuori dal bagno abbiamo subito questa piccola copertura che sarebbe la copertura del terrazzo ma che può permettere di godere la parte esterna anche d'estate o la sera quando magari fuori dovesse piovere. Adesso qua c'è tutto quanto il cortile. qua sul fondo abbiamo questo piccolo spazio sopra che è uno spazio di deposito, di sgombero. Qua c'è tutta questa tettoglia che può essere utilizzata anche per un camper, per un'auto, a tutti quanti gli effetti. C'è anche l'accesso da questa parte per poter accedere a questo cortile quindi volendo non ci sono difficoltà. da questa scala si può andare sopra e di qua c'è questo bel locale che è molto comodo da utilizzare come piccolo sgombero come locale, come posso dire, per le festicciole perché sicuramente rimessa nuovo è uno spazio assolutamente godibile. Adesso Marco vi porta a vedere invece la parte esterna dove troviamo il pollaio e il giardino. C'è una porta in ferro che divide appunto le due soluzioni cortile e giardino qua c'è un piccolo pollaio e sul fondo qua abbiamo l'acqua abbiamo tutto e sul fondo c'è tutto quanto il bel giardino che arriva fino laggiù in fondo quindi non la prima recinzione ma la seconda quindi arriva fino dove sostanzialmente c'è la strada e là si potrebbe richiedere il permesso di aprire un piccolo cancello per poi accedere in maniera anche carraio o pedonale volendo. Quindi adesso vi facciamo dare solo un'occhiata a quella che è la facciata interna di recente la signora ha fatto controllare anche il tetto e quindi sappiamo che non ci sono infiltrazioni proprio perché comunque è stata fatta questa piccola opera di manutenzione anche alle tegole sono state riviste quindi sostituite. Se avete piacere di venire a scoprire questo immobile il prezzo basta semplicemente che vedete sotto nella descrizione troverete tutto troverete la descrizione della casa il prezzo se avete piacere di vendere l'immobile con noi in Piemonte e in Liguria possiamo seguirvi mi scrivete voglio vendere con voi vi contatteremo verremo a casa vostra casa vostra diventerà un piccolo set cinematografico come vedete sui social siamo posizionati bene e questo vi permetterà di poter vendere in tempi celeri di vostro immobile detto questo vi saluto e vi mando un abbraccio ciao grazie a tutti